No no no, non lei. Aspetta, dopo ti faccio entrare. No, non entro adesso, grazie. Lo hai già spiegato? Sì sì, ho capito, grazie. Questo chi è? Chafin? Questo è Chafin? Eh sì, è il tuo figlio. Sono piccoli, molto piccoli. E là, ciao. Adesso passo a salutare. Va bene. Sì, grazie. Grazie. Sì, grazie. Mi serve un cognome e nome tuo qua. Sì, grazie. Mi serve un cognome e nome tuo qua. Sì, grazie. C'è un cognome e nome questo. Sì, grazie. Sì, grazie. Voi vieni a vedere, come vedete. Guardate. Voi. Come vedete. Non è vero. Come vedete. Come vedete. Voi? 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 probabilmente che ha telefonato e sola se l'ha detto che è un ospite nutrice che bella non è un po' ma c'è un po' non è un po' ma c'è un po' ora si è piaciuto ora si è piaciuto come pesce? non è un po' è il po' è il po' Sì, è stato un po' di naccogli. Sì, è stato un po' di naccogli. Ma non è un po' di naccogli. Oh, il mondo si... è fatta Grazie a tutti Grazie a tutti